ciao ragazzi e oggi vediamo insieme come iniziare a pescare proprio perché ci servirà poi anche la vitamina d e quindi avremo bisogno di pesce come prima cosa richiamoci al nostro blacksmith e apriamolo e clicchiamo qui fish naturalmente dobbiamo aver sbloccato la ricetta e per così possiamo iniziare a fare la nostra canna da pesca per poterla fare abbiamo bisogno di 50 di fibra 24 di touch e 16 di wood quindi legna una volta che abbiamo fatto la mettiamo in barra nelle zone iniziali del gioco potete trovare questi piccoli sembrano quasi asparagi diciamo questi se raccolti così vi danno il sap questo è un materiale che servirà appunto per poter pescare come esca adesso ne prenderò un bel po potete trovare poi anche nelle specie di pietre con del miele o della resina non so cos'è comunque sempre sap qua vi da poi ci spostiamo un pochettino leggermente a largo ok in questo modo qua l'ho preso il sapo e trascinato qui sulla canna da pesca una volta che qui l'abbiamo equipaggiato possiamo metterlo in barra e prendere la nostra canna a questo punto possiamo eventualmente lanciarla dov'è andata 3000 km dopo un bel po di tempo partirà un minigame cioè sullo schermo apriranno delle lettere voi dovrete schiacciare i tasti in corrispondenza dopo aver fatto tutta la seguenza di tasti sarete in grado di pescare il vostro pesce vi ringrazio per aver visto questo video mettete mi piace e condividetelo